Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale con un nuovo episodio di Hey Day Questo rumore che sentite è il mio caffè, perché sono le 3 del pomeriggio E io devo fare pausa caffè Eravamo rimasti che io avevo fatto il vicinato, i popcorn e il barbecue Purtroppo sono entrata per verificare il tutto Senza farlo apposta, ho schiacciato sulla cosa i popcorn e quindi si è aperto il pacchetto regalo Tutto qua, peccato Bene, allora vediamo cosa dobbiamo fare Prima di aprire i pacchettini, che sono questo e questo Voglio prima fare delle consegne per svuotare il granaio Quindi facciamo subito questa Prima consegna del giorno fatta Ah ecco, tra l'altro abbiamo un evento L'evento è questo Ah sì, praticamente questi eventi vi fanno fare determinate consegne Tipo qua, ogni 4 consegne vi daranno un premio E poi così via Ecco che è tornato dalla prima consegna Altra consegna da fare Miettiamo il grano Granaio No, sì l'ho pieno stavolta Bene, è fantastico Ma è una gioia Guarda questi due porcelli Ah già, il granaio è pieno Poi andiamo avanti Qua un'altra consegna Qua un'altra consegna tra pochissimo Tra pochissimo sblocchiamo anche il livello 11 Vedete che siamo a 913 su 960 Ok Dai te ne do 6 e li ripianto Ho dato 6 così a Greg Così li ripianto Perfetto Ora facciamo questa consegna Poi possiamo fare questa e questa Perfetto Ok Avevamo delle Ah ecco mi sono comprata dal mio canale Dal mio profilo Scusate 10 seghe Quindi facciamo subito un po' di pulizia Togliamo questi qua Che sono più fastidiosi Eccoli qua Ecco fatto Ho sbloccato il nuovo livello Ale Ah posso fare il pass Che bello Lo faccio sempre nell'altro profilo Costa 4,99 Ma ti dà un sacco di vantaggi ogni mese E quindi direi che lo possiamo fare tranquillamente anche noi Vediamo un po' Inizia a giocare Ah però mancano 7 giorni alla fine Beh però possiamo fare tutte queste Queste varie cose Credete che possiamo farcela? Vediamo cosa mi dà No ma non ha senso Non ha molto senso qui No non lo faccio Mancano 7 giorni e finisce il pass Non ha senso spendere ora i soldi Prossimo mese Cioè tra 7 giorni Lo facciamo tranquillamente Qua sta sempre registrando Ok Ok vediamo che altre consegne Dobbiamo fare Questa qua Obiettivo personale Evento fatto Quindi Mi hanno dato 3 Seghe Poi devo fare le altre 4 consegne Mi danno un altro premio E così via Ok Sblocchiamo qua Delle altre Ok Ah qua tra l'altro La panetteria ha fatto questi Quindi abbiamo sbloccato Altre consegne Questo mi chiede delle uova No Scusami Ma non posso Qua ci vuole Ah ecco Allora Qua possiamo fare le uova Ecco l'ultima consegna Pronta Ci siamo fatti un po' di soldini Dai Un po' Pochissimi Ok Questa consegna Dovremmo fare in teoria questa Che ci chiede un uovo Vediamo quanto costa Eh Troppo cari Un uovo costa 200 Questi ci Eh vabbè Allora facciamo subito questa consegna Appena torna il Vedete ho comprato l'uovo Così faccio quest'altra consegna E salgo ancora di livello Tra l'altro vi piacciono i miei capelli lilla Mi piacciono un sacco Oh qua non li ho piaciuti bene No qua Immaggia Ok possiamo fare questa E possiamo ancora fare Dov'è? Questa Perché adesso Miettiamo i maiali Non si dice così comunque Ecco fatto Gli do già subito di nuovo da mangiare Ok Subito Obiettivo perciò Ho fatto altre quattro consegne Veramente Mi ha dato quattro bombe Ok Usiamole subito Una Due Tre Quattro Cinque Sei Ho vinto dei soldi In un baule Perfetto Qua abbiamo una palla Le palle servono per togliere gli stagnetti Non abbiamo Ok E bombette ne abbiamo Ok due bombettine Una E due Perfetto Stiamo già facendo un po' di pulizia Che ne dite Che ne dite Ah ma abbiamo ancora delle seghe Ok Tolgo questi allora Tolgo anche questi qua che non mi piacciono Che ne dite? Vi ricordate com'era prima? Guardate com'è bella pulita ora E' carino no? Obiettivo del pass completato Ah già perché il pass ti dà comunque dei premi che sono solo quelli sotto Mi spiego meglio perché chi non lo sa poi potrebbe dire Alice ma non ci spieghi le cose Dunque Questo qua è il pass della fattoria E' una cosa che hanno sbloccato da poco Praticamente vi permette di fare questi obiettivi E se pagate 4,99 Vi dà entrambi i premi Cioè quello di sotto Che ho vinto io E quello di sopra Ottieni pass Vedete dove c'è scritto ottieni pass Io mancano sette giorni alla fine Non lo faccio Ora tipo nel mio primo profilo L'ho fatto ma il primo giorno dura 30 giorni Quindi ora non ha senso farlo Quest'altra è da aspettare Allora intanto vediamo qua cosa mi dà Ma da quando mi fa vedere? Ah ok Che spasso Non ho neanche visto Che spasso cosa Ho vinto un'altra due pale Quindi le uso subito Una E due Ok facciamo l'ultima consegna E siamo a cavallo Ora abbiamo fatto l'ultima consegna Apriamo La macchina dei popcorn Vado Ah che belline Tutte le farfalline Kibill Iniziamo subito a fare dei popcorn Ah bene non abbiamo Ah qua possiamo comprare ancora due maiae Questi costano No assolutamente no Ah possiamo comprare dei pezzi di terreno Quindi uno Due Tre Fatto Qua cosa possiamo Ah sempre quelli da pagamento Direi anche di no Ok per il resto ci siamo Apriamo il vicinato Dobbiamo entrare in un vicinato Evviva la casa è stata riparata Ora crea un nuovo vicinato O entra in uno già esistente Per giocare e chattare con i tuoi amici più cari Entro in uno in cui ci sono già persone Diamo un po' Aperto a tutti Sono entrata qua Ah sono tutti di basso livello Ok Cioè sono la più bassa Io praticamente Ah no non sono la più bassa Sono nel Livello 11 Comprimenti per il tuo ingresso Invicinato Qua devo far girare la ruta della fortuna Vado Un uovo Grazie Prima di guardare il giornale Direi di guardare Che cosa ci manca Quindi tre di popcorn Li possiamo già Ah non li possiamo fare Perché non c'è ancora il grano Ah si c'è il grano Perché una consegna Mi diceva di fare i popcorn Tre popcorn e tre di questi qua Di soia Poi un uovo Un uovo lo facciamo qui Subito Ah manca Mizzica Quattro uova Mi conviene comprarli Cioè Poi Una carne Ah le carni sono già finite Un pancake Mamma quanta roba Alice non mi può vendere qualcosa Vediamo se Alice mi vende qualcosa Alice cioè io Gli serviva della soia Alla mia piccola me Vado Ovviamente non metto l'annuncio Se no me la rubano Vado su Alice Non si giocherebbe così Mi sto barando Ok Vediamo se riesco a fare Ehi Ma non avevo comprato Ma raga non avevo comprato i popcorn No io mi sogno le cose Mi sogno le cose Questi ci servono 5,40 lo so Sono tanti ma ci servono Ho comprato le seghe Per togliere gli alberi grandi Quasi finiti Cioè Quasi finiti più o meno Guardate quante ce ne sono Però sapete cosa È soddisfacente Poi vedere che Si inizia a svuotare Tutta la fatta Guardate Cioè vi ricordate Com'era prima Dai è bello È vedere così Mettiamo lì vicini i macchinari Così li vedo I porci Li metto qua Ok È un po' più ordinata Ma più o meno Fa proprio cagare Mi manca del materiale Ma devo preparare le cose Per le missioni E nella prossima puntata Ovviamente Le sbloccherò Insieme a voi Bene ragazzi Il video finisce qui Io spero che vi sia piaciuto Tento di portarvi Nella prossima puntata Già il livello successivo Sperando di sbloccare Un macchinario Vi lascio il pacchetto Così lo sblocchiamo Poi insieme Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Che cosa volete Che faccia insieme a voi Sui dei E noi ci vediamo Come sempre In un prossimo video Ciao ragazzi Lascia un commento Metti mi piace Cosa ti costa Dai che sei capace Mirko Alice Game Se il video ti è piaciuto Lascia un commento E iscriviti al canale La giornata è la coppia Che scoppia Sono come noi La vita di coppia Vissuta da eroi La coppia che scoppia È un'esplosione Mirko e Alice Dentro il nostro cuore La giornata è il video La temps othersse La storia di